Ciao a tutti! Oggi sono qua davanti alla mia libreria, cosa più unica che rara, per fare un video che mi è stato richiesto tantissimo, ovvero il video collezione di graphic novel. Vi mostrerò quindi tutte le graphic novel che ho qua in libreria, qua ne potete vedere già un piccolo assaggio, ma in realtà ne ho tantissime qua sopra. Quindi spero che questo video possa piacervi e vi lascio vedere, sbirciare che cosa c'è. Scusate l'inquadratura un po' traballante, ma sono in bilico anche io per filmare questo scaffale perché è molto in alto. Allora, innanzitutto partiamo con le graphic novel straniere, partendo da Rovine, di Cooper, vincitore di un premio molto importante. Ve ne ho parlato anche in un recente video su graphic novel consigliate. In ogni caso, se ci saranno varie recensioni o video dedicati, li troverete tutti in descrizione. Proseguendo abbiamo Plutona di Lemire, Lennox e Belair, un fumetto sui supereroi, ma non solo, molto crudo. Tre fumetti poi di Crick Thompson, si vede che mi piace. Blankets, Abibi e Polpette spaziali. Blankets, vabbè, è un classico che ormai conoscerete tutti. Abibi mi è piaciuto molto di più di Blankets, parla di amore a 360 gradi, è abbastanza diretto ed esplicito quando parla di sesso, ma è molto bello. Mentre Polpette spaziali lo devo ancora leggere, è l'unico fumetto a colori di questo artista. Mouse di Art Spiegelman è un altro fumetto da leggere assolutamente sull'olocausto. Special Exits di Joyce Farmer, anche di questo fumetto vi ho parlato in più di un'occasione perché parla degli anziani, di come vengono visti dalla società, in generale di vita quotidiana, di una coppia che è diciamo al termine della sua vita. I Kill Giants di Joe Kelly e Ken Nimura è un fumetto di cui presto faranno un film, infatti sono molto molto curiosa. Ricorda per certi versi sette minuti dopo la mezzanotte, ma a me è piaciuto di più. Utilizza la metafora dei giganti da combattere per parlare di lutto e bullismo. Nimona, vabbè, anche di questo fumetto vi ho parlato tantissimo, di Noelle Stevenson, un fumetto fantasy meraviglioso. Spostandoci leggermente abbiamo altre graphic novel straniere, soltanto le ultime due qua sono di autori italiani. Ci sono tanti fumetti di cui vi ho già parlato, quindi andrò abbastanza veloce, come ad esempio in Real Life, ho fatto anche una recensione di Cory Doctorow e Jen Wang. È un fumetto, secondo me, un po' sottovalutato, veramente da leggere. Così come Anya's Ghost, io ce l'ho in inglese, di Anya Brosgol, ma è uscita recentemente la ristampa Bao. Anche in questo caso la storia parla di accettazione ed è una storia da leggere assolutamente se siete ancora al liceo o se siete adolescenti in generale. Anche se siete più grandi, ma se siete adolescenti in particolare. Bellezza è un fumetto che devo ancora leggere, lo sto tenendo per un'occasione speciale. Così come Giardini d'Inverno, di La Padula e di... spero si pronunci così, è un autore comunque francese. Non sei mica al mondo è un fumetto che parla invece di bullismo, anche in questo caso in maniera abbastanza diretta. I disegni ricordano un po' Tim Burton, è molto particolare. Sempre dalla collana Tipi Tondi c'è anche La Memoria dell'acqua e L'uomo Montagna, due storie molto delicate che parlano tutti e due di nonni, molto carini. E poi c'è La Spaventosa Paura di Epiphanie Froyer, si parla di paura con un tratto molto fiabesco. Indomite di Penelope Bajot è un fumetto che avrete già sentito nominare in lungo e in largo, una storia che vi straconsiglio di leggere. Delle storie in realtà che vi consiglio di leggere perché si tratta infatti di una raccolta di biografie di donne che hanno veramente spaccato, che sono andate contro i pregiudizi, contro tante difficoltà ed è un'opera molto ispirante. Abbiamo poi Polina di Bastian Vivè, sono curiosa di leggere la sua ultima graphic novel perché questa non mi ha convinta al 100%, si parla di danza classica e la storia in generale è bella perché parla comunque di danza, però non mi ha convinto molto il modo in cui l'autore ha parlato di questo argomento. Sad Boy di Berliac, questo è un fumetto che è entrato da poco nella mia collezione, è un fumetto che devo ancora leggere ma la storia parla di un ragazzo particolarmente arrabbiato che si ritrova a vivere in Scandinavia e da solo deve far fronte a una serie di problematiche. Non è te che aspettavo di Fabien Thulme è un fumetto da leggere, punto. Una storia veramente molto toccante sul rapporto padre-figlia ma ancora più interessante perché si parla di Trisomia 21, la sindrome di Down, con una delicatezza veramente pazzesca. Si sente che è una storia vera perché parla proprio dell'autore. Devo ancora leggere invece Rughe di Paco Roca, così come Persepolis e Tagliacucci di Marjan Satrapi, ma saranno fra le mie prossime letture. Abbiamo poi due graphic novel di autori cinesi, ovvero i racconti dei Vicoletti e Reverie, entrambi dei fumetti molto molto belli, fra i due i racconti dei Vicoletti super top. Anche in questo caso il tratto è molto delicato e mi è piaciuto tantissimo il rapporto fra la bambina e suo nonno. Vincent di Barbara Stock è un fumetto invece che si concentra sulla vita di Vincent Van Gogh, lo devo ancora leggere ma sono molto curiosa. Da qua sulla terra è bellissima, invece è un fumetto meraviglioso di Tony Bruno, l'ho veramente apprezzato molto, non soltanto perché si parla di missioni nello spazio, ma soprattutto per la psicologia dei personaggi. Se state cercando quindi qualcosa di profondo in questo senso è assolutamente da recuperare. E altro fumetto che sento citare poco, ma che secondo me vale molto, è Gli anni che restano di Davide Auriglia e Brian Freschi. Provate una recensione, quindi vi consiglio di recuperarla. In questo cubo ci sono tutti i fumetti in serie, quindi andrò abbastanza velocemente. C'è Sky Doll di Barbucci e Canepa, un fumetto molto bello di cui attendo trepidante il finale. The Wicked and the Divine invece è un fumetto che non mi ha convinto, non mi è piaciuto probabilmente per lo stile da supereroi che a me personalmente non piace particolarmente. Mentre Paper Girls di Brian Vaughan, autore di Saga, che vedete subito lì a fianco, è un fumetto che ricorda molto Stranger Things, molto particolare. Non l'ho fatta apposta, ma ho saltato Blu di Angela Vianello, un fumetto che mi è piaciuto, ma sono curiosa di leggere i seguiti per vedere come si svilupperà la storia, perché le promesse sembrano interessanti. La protagonista è una ragazza che si trova a avere dei disturbi, ha sempre sete, insomma, c'è una sorta di malattia che gira, insomma, ci sono degli elementi che apprezzo e i disegni di Angela Vianello sono bellissimi. Proseguendo abbiamo The Sender, che è uno dei fumetti più belli sullo spazio che io abbia mai letto. Innanzitutto per l'ambientazione, come vi dicevo, futuristica. Siamo in un pianeta, in un'epoca in cui i robot si sono, diciamo, ribellati. C'è stato un attacco da parte di robot giganti che ha ucciso buona parte della popolazione e in seguito a questo evento i robot sono stati distrutti completamente. Se ne è salvato uno che viene ricercato un po' per ricerca, per capire da dove sono venuti questi robot giganti, ma viene ricercato anche da chi semplicemente vuole distruggere i robot o rivendere i loro pezzi. Una storia futuristica che nel mezzo ci mette tante tematiche attuali, veramente molto emozionante. Axe è un altro fumetto che mi ha delusa tanto ed è un autore italiano, Niccolò Pellizzon. La storia è ambientata in un mondo magico, però lo stile con cui viene raccontata questa storia non mi ha convinto tantissimo. Ho trovato la storia infatti un po' pesante. Come vi dicevo, Ecco Saga con tutti i suoi otto splendidi volumi, Lamber James, sempre di Noelle Stevenson e altre autrici, una serie che parla di amicizia, campeggio, veramente molto molto divertente. Infine, al numero uno di Aqualang e Vivi e Vegeta. Aqualang è una storia che strizza un po' l'occhio al mondo dei supereroi, nel senso che è ambientato in un posto, in una cittadina in cui non succede mai niente, ma in cui poi si scoprirà che invece sotto l'acqua di cose ne succedono e come. Si parla di esperimenti, c'è molta azione, insomma è stata una lettura interessante ma non ho mai avuto modo poi di proseguire. Mentre Vivi e Vegeta l'ho trovato un fumetto molto originale, è un noir in cui i protagonisti sono tutti piante, quindi cactus, girasoli, bellissimo. Passiamo ora ai fumetti di autori italiani. Fan di Paolo Baciglieri è un fumetto che devo ancora leggere, è incentrato sui cruciverba, quindi sono molto curiosa. La giusta misura di Flavia Biondi è un fumetto che sono riuscita a farmi anche dedicare, perché sono stata alla presentazione in anteprima di questo fumetto, ho anche avuto modo di intervistare l'autrice. C'è una storia molto bella, soprattutto per chi ha la mia età parla della nostra generazione, dei dubbi su che cosa fare nella vita, i dubbi sul futuro. C'è poi un'antologia sull'Eros, ovvero Melagrana, edita da Attacca Panni Press. Scusate le varie ombre, ma purtroppo siamo in una situazione scomoda. Praticamente questa è una raccolta di storie di autori differenti che hanno come tema centrale appunto l'amore erotico. Mi avete chiesto intanto di poter recuperare questo fumetto, io l'ho preso al Cartoon Mix, quindi in fiera, controllate sempre allo stand Attacca Panni. Ci sono poi due fumetti che devo ancora leggere, ovvero Figlio Unico di Vincenzo Filosa, molto curiosa. Vincenzo Filosa ha tra l'altro tradotto, se non sbaglio, L'Uomo Senza Talento, che vi mostrerò fra poco, un fumetto veramente molto molto bello. C'è poi Le Ragazze Nello Studio di Munari di Alessandro Baronciani e Miss Direction di Lucia Viaggi, un fumetto veramente molto molto bello. Mi è piaciuto tanto, ha anche l'accostamento di colori molto particolare e acceso. Proseguendo abbiamo Iper Urania di Francesco Guarnaccia, un fumetto uscito recentemente per Bao, trovate la mia recensione qua sul canale, ho partecipato al loro blog tour. È un fumetto che parla di spazio, ma anche dell'importanza dell'arte. Il Suona del mondo a memoria di Giacomo Bevilacqua è un fumetto che vi ho citato in più di un'occasione, e anche in questo caso ho avuto la fortuna di incontrare l'autore. Sono riuscita quindi a farmi fare una dedica, sono molto contenta perché è un autore che stimo tanto. Tra l'altro se non lo conoscete, seguitelo sui social perché è anche molto molto simpatico. Il Porto Proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi nella Artist Edition è qualcosa di mozzafiato, è veramente un'edizione molto curata e favolosa, uno degli albi più belli sicuramente in mio possesso. Anche in questo caso ho una bellissima dedica, visto che ho incontrato gli autori a tempo di libri, se non sbaglio, e poi ho avuto anche modo di intervistarli più avanti. Sempre di loro c'è anche Non stancarti di andare, uno dei fumetti più belli che io abbia letto l'anno scorso. E uno dei miei fumetti preferiti di sempre, ovvero Golem di LRNZ, di cui ho anche Astro Gamma. Allora, io vi spammo questo fumetto sempre in lungo e largo, ma penso che non smetterò mai di farlo. È abbastanza complicato farvi vedere qualche tavola. Comunque, ha seguito anche quest'autore sul suo sito, sui vari social, lui ha illustrato anche le copertine, ad esempio, della trilogia dell'Area X, di Born, di Jeff Van Der Meer. È un autore che stimo veramente tanto, di cui apprezzo ogni cosa, praticamente. E questa è una storia distopica veramente molto bella, se non sbaglio presto ne faranno una serie animata. Quindi, wow! Topico di Maurizia Rubino è un fumetto che mi è piaciuto, ma non mi ha convinto al 100%. La cosa più bella, secondo me, sono assolutamente i disegni, queste linee morbide a me piacciono tanto. Poi anche i colori pop sono veramente molto molto belli. La Terra dei figli di J.P. è un fumetto che mi è piaciuto, ma mi ha lasciato un po' perplessa. Penso di non aver compreso tutte le sfumature. Quindi, sono curiosa di leggere l'altro dell'autore e poi rileggere La Terra dei figli. Kids with Guns, di Capitano Artiglio, è un fumetto che attendevo tantissimo quest'anno e mi è piaciuto molto molto molto. Non vedo l'ora di proseguire, perché cowboy, dinosauri, setting un po' fantascientifico, insomma, un mix pazzesco. Così come è bellissima anche. Quindi, quest'altra storia, Freezer, di Veronica Veci Carratello, è un fumetto che parla molto di famiglia, dei piccoli drammi quotidiani. I personaggi sono molto simpatici e poi c'è un gatto che si chiama Kafka che tenta sempre di suicidarsi. Un anno senza te, di Vanzella Giopota, invece, è un fumetto che parla di amore, mentre We Are The Champions, di Dario Moccia e Tuono Pettinato, è un fumetto che parla appunto della vita di Freddie Mercury. Ho avuto il grandissimo onore di intervistare gli autori a Mare di Libri. Trovate l'intervista qua sul canale, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Io stimo tantissimo gli autori, quindi top, bellissimo. Residenza Arcadia lo devo ancora leggere, ma tutti mi dicono che questo fumetto di Daniel Cueio è meraviglioso, quindi presto lo leggerò. 18 volte virgola 3 di Stefano Simeone, è un fumetto che vi è piaciuto, ma anche in questo caso non mi ha convinto al 100%. In pratica è la storia di una ragazza, Francesca, e delle sue 18 volte virgola 3 in cui si è innamorata. Si parla quindi di crescita, delle aspettative che si hanno da giovani che poi non vengono rispettate quando si cresce. Ultimo angolino della libreria dove ho i fumetti, direi di partire da questi che ho appoggiato perché al momento devo sistemare, non ho ancora trovato posto per questi tre fumetti che sono tutti e tre di Canicola. Come vi accennavo, l'uomo senza talento è assolutamente da leggere, leggetelo. Gli altri due fumetti sono Il fratello di Jürgen e Sempre Insieme. Dopodiché abbiamo due fumetti di Loputin, Francis e Il canto delle onde, che è stato scritto da Marco Rincione. Una storia di Gipi, penso che sia uno dei suoi fumetti più famosi, io lo devo ancora leggere, ma come vi dicevo voglio approcciarmi meglio a quest'autore. Dopodiché abbiamo Il lago dei cigni di Meucci e Triolo. Non è ancora in libreria perché è arrivato recentemente, ma sempre di Elena Triolo o anche Coco, vita di Coco Chanel. Altri fumetti di Thunue sono Il piccolo Caronte di Sergio Algozzino e Devorallo, autrice che ho avuto modo di incontrare. Mi piacciono tantissimo i suoi disegni, anche la storia è molto carina. Così come Sulla collina Victoria e Il cuore dell'ombra. Tre fumetti dedicati ai giovani lettori che secondo me, anche per i più cresciuti diciamo, sono veramente molto belli. Abbiamo una sfilza di Zero Calcare su cui non mi soffermerò perché ormai chi non conosce Zero Calcare, diciamocelo, ormai tutti hanno almeno un fumetto di Zero Calcare in casa. Dopodiché torniamo con Flavia Biondi e La Generazione. Fumetto meraviglioso. Bellissimo, bellissimo, veramente molto toccante. Anche in questo caso si parla di amore, di futuro, un ragazzo che non sa bene che cosa fare della propria vita e cerca di ritrovare uno scopo e dei valori tornando a casa dalla propria famiglia. Quaderni giapponesi di Igort è una sorta di documentario, diario che racconta un po' l'esperienza dell'autore in Giappone, visto che si è ritrovato a lavorare in questo paese. E parla anche di varie curiosità e tradizioni appunto del Giappone. Il mio Salinger di Valentina Grande e Eva Rossetti parla della vita di Salinger, in particolare della sua prima moglie e del periodo in cui Salinger non aveva ancora pubblicato Il Giovane Olden. Come quando eravamo piccoli di Pagliaga e Carlo Magno, è bellissimo, è un fumetto con uno stile molto da serie tv. E infine ricomincia da qui di Stetirasso, in realtà non infine perché ho anche due fumetti di Giulio Maccaione, ovvero La fine dell'estate e Il buio tra gli alberi. Questo l'ho letto e mi ha un tantino deluso, devo essere sincera, probabilmente perché è breve quindi non c'è spazio per sviluppare a pieno la storia. La fine dell'estate lo devo ancora leggere. Mi stavo quasi dimenticando di questa piccola chicca che era infilata là in mezzo, ovvero Soppi di Filippa Rice. Un fumetto che anche in questo caso parla di amore, un amore che si basa su piccoli gesti quotidiani e è una storia veramente molto molto tenera, fatta di vignette super carine e tenere. Questo è il fumetto ideale da leggere se siete in un periodo no perché vi strapperà un sorriso. Queste erano quindi tutte le mie graphic novel. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se c'è qualche titolo che vi incuriosisce particolarmente, di cui magari non ho ancora fatto un video al riguardo o magari c'è un fumetto che ancora non ho letto e non so, siete particolarmente curiosi, vorreste vederne la recensione, insomma. Per ogni cosa mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti. Vi ricordo inoltre che se volete seguire tutti gli aggiornamenti riguardanti il canale, il blog, quello che succede in generale, potete seguirmi anche sul canale Telegram, lo trovate sempre linkato qua sotto in descrizione. Ogni tanto vi linko i video, ma anche immagini, video extra, tra virgolette, vocali, insomma, mi piace giocarci. Spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!